35esima giornata del girone B di Serie C ed è Gubbio e Triestina al Barbetti. C'è Casiraghi dal primo minuto ed è 3-5-2 per Sandriani. 4-3 per Princivalli con arma al centro dell'attacco. La gara è tattica sino al 32esimo, quando Piccini perde palla dinanzi alla propria area scatenando la corsa di Precaletti, che penetra in area e crossa basso per arma, chiuso dal tekel di Burzigotti, giudicato regolare dall'arbitro Cipriani di Empoli. Un contatto che innesca un diverbio prolungato tra i protagonisti in campo, ma è sempre la Triestina ad essere pericoloso al 35esimo, quando Pozzebon, dalla sinistra, crossa liftato per Precaletti, che di testa schiaccia sul palo lontano ma non inquadra lo specchio della porta. Le storie tese proseguono e a fare le spese sono Lex Marchi e Coletti, ambedue ammoniti, e la prima chance per il Gubbio arriva al 38esimo con una conclusione dalla distanza di Valagussa, bloccata senza patemi da Boccanera. Si passa la ripresa e dopo due minuti Pozzebon lascia sul posto di Erna e mette la freccia a sinistra, crosteso per arma, che calcia a bottacicura da due metri, ma Volpe si oppone con una parata da campione. 55esimo minuto, cambio gioco di Pedrelli per Calombo, tocco di prima con il petto per Valagussa, che calcia, Boccanera respinge a corte centrale, irrompe Casiraghi, pallone ancora deviato da Boccanera, che bacia il palo per poi superare la linea di porta, rendendo inutile il tentativo di salvataggio di Lambrughi. Gubbio in vantaggio grazie alla quinta rete in campionato di Casiraghi. 68esimo minuto, Croff dalla tre quarti di Pizzul, spondera di arma per Bracaletti, che vince il contrasto con Dierna, aiutandoci però con un braccio e servendo di fatto Menzà, che in un lampo stoppa e calcia al volo, infilando Volpe sul primo palo, con un destro sotto l'incrocio. Immediato pareggio per i triestini, grazie alla nona rete in campionato dell'Italo-Ganese, con l'arbitro che giudica involontare nonché ravvicinato, il precedente tocco con il braccio di Bracaletti. A 68esimo, il subentrato a quadro, cade in area dopo un presunto contatto con Bursigotti, ma l'arbitro ammonisce il centrocampista ospite per simulazione. In pieno recupero, giallo anche a Menzà, per un tocco di mano in area, al fin di anticipare Volpe in uscita. Finisce 1-1, un punto a testa che non consenta al Gubbio di compiere sostanziali passi in avanti in chiave salvezza. Ora, due trasferte ostiche quanto determinanti, a partire dalla domenica prossima alle 16.30 al Mercante contro il Bassano.